Mandiamo un abbraccio perché noi siamo pazzi di lei, Rosanna Caccio ha incontrato poco fa Giorgia! Tu come stai? Bene, bene, dai, dopo la prova bene. Prima di aprire le prove, come sono andate? Bene, benissimo, orchestra meravigliosa, cantanti fantastici, tecnici incredibili, atmosfera veramente emozionante e anche che ti gasa un po', capito? Ti emoziona, ma ti emoziona bene, in positivo. Giorgia è carica, grande. Adesso, poi vediamo un po'. Ciao ragazzi! Evviva Giorgia! Evviva, brava Giorgia, brava! Che ritorno è quello di Giorgia? È un super ritorno. Allora, è un super ritorno con una Giorgia che vi stupirà, non vi aspettate la classica canzone se arremese da Giorgia, è una canzone che forse non arriva subito al primo ascolto, datele tempo. Ha un sapore degli anni 90. È data tra i favoriti, no? Quest'anno saranno cinque se non ho cominciato.